suonano mezzi nudi lì con tutti i profumi emanano altro che i profumi capitanati da marco e si chiamano batuc branco batuc branco bravissimi sentiamoli va bene andiamo a sentire batuc branco 25 che sono in una stanza che fa più marco quindi 26 marco sarà in mezzo marco galli factor marco io sono marco faccio parte di un gruppo di percursionisti brasiliani siamo i battucchi branco di vicenza con te la grande maestro marco catinaccio e ti presentiamo il nostro brano composto da noi titolato batte branco però vi piaccia a colazione ok dove mano il mar marco gallo eh vai cavolo questi suonano davvero non è vero non è vero madonna è la samba la samba brasiliana la torcida quando fanno carnevale bellissima di Vicenza sono sti ragazzi adesso qua ci sono tutti i brasiliani che sono sintonizzati ragazzi solo immaginate adesso c'è Belen davanti alla radio che sta facendo i buoni guarda non devo neanche benciarci Belen dove sei? che sull'isola ogni tanto si metteva a ballare mamma mia Belen ti manco io dai finisci la pagina quando ti fai in privato Marco? ah la chiamiamo in privato? quando fai sti balli in privato aspetta e chiamamio e ti chiamo andiamo insieme fuocca miseria se suona è andato un po' avanti è lunga e si a questi devi sparare per farli smettere questi vanno avanti una settimana stile brasiliano sono delle maniche che sono dei badini poca miseria mi sembra anche la mitraglietta Marco Galli di fatto i Marco Marco da Vicenza baltuche io com'è che baltache com'è che si chiamano bene? diciamolo bene lo spaviamo il nome batuk branco ah batuk io qua c'ho baltuche batuk batuk ma quello lo prepara a scuola devi capire ah figura neanche scrivere sa più batuk 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 e branco batuk e branco ma quanto bene come si chiama sto gruppo di perchisonisti guarda te lo dico batuk branco e sono di Vicenza ma posate le pentole andate a lavorare come tutti Simone da Genova come si chiama eh ma buongiorno capitano e poi dicono che il branco è una cosa brutta sono uno spettacolo voto 1 Enzo da Siracusa bravo ragazzi come capitano sono le pentole no che pentole ma stanno facendo lavori di ristrutturazione dentro la radio è lo stesso rumore di quando trombo Fabio da Milano sembra il disco di Carnevale forse Gliuzzi lo conosce vabbè ma cosa vuol dire la samba per quodistamiche